Qual è che si fa? Il locale Staglio Ok, perfetto Vorrei sapere una tua opinione con riguardo a questo locale? Questo locale è il 28 Insomma, non è molto bello Ah, la cala Mediocro Ok Ma sinceramente? Sinceramente è bello Buon caso Ma se tu vuoi che tu vuoi dire questo? Qui è finificante Ma vuoi che c'è il 28, 29? Ma vuoi?